Cosentino Sauro a breve sarà ufficiale mentre il procuratore di Rolin in visita a Torre del Grifo ha chiesto un rinnovo a circa 250.000 euro a stagione L'amministratore delegato etneo prende tempo su possibili offerte da altri club per l'uruguaggio 48 ore e tutto sarà più chiaro anche per Francesco Lodi Cosentino incontrerà Leonardo DS del Parma voglia di monetizzare da parte della società etnea davanti però a congre offerte Leonardo vuole Lodi convincere Cosentino con l'offerta giusta il secondo step ma entro domani potrebbe arrivare la fumata bianca anche perché già dall'8 agosto l'eterno giovane Federico Moretti forse nessuno lo sa ma si allena in gruppo col Catania e proprio lui potrebbe tornare di moda con la partenza di Lodi intanto la squadra si allena e lavora sodo per la seconda tappa firmata Coppa Italia si gioca sabato sera impegno gravoso in salita per un test di primo livello la sfida contro il Cagliari di Zeeman stuzzica parecchio per Pellegrino attesa per ulteriori risposte dal campo ma è arrivata proprio adesso l'ufficialità Gaston Sauro è un giocatore del Catania il difensore argentino 24enne arriva dunque in prestito dalla Basilea con diritto di riscatto per la società rossa-azzurra colp... colp... grazie a tutti... grazie a tutti... grazie a tutti... grazie a tutti... grazie a tutti...